Che cosa abbiamo trovato oggi? Allora, siccome stasera andiamo a cenare in un ristorante dove siamo già stati e questo format vedo che sta piacendo, ho trovato una recensione, cioè praticamente leggiamo le recensioni peggiori di posti dove siamo andati che in realtà sappiamo che si mangia bene tipo c'è questo che dice cibo buono ma nulla di eccezionale comparato al prezzo che voglio dire costo uguale a tutti gli altri ristoranti Sì, infatti Servizio pessimo, atteso mezz'ora per i primi che voglio dire il tempo di cuocere la pasta mezz'ora cos'è? Non è che teso due ore Mezz'ora ci sta tollerabile Atteso mezz'ora non le è piaciuto Eravamo in quattro e siamo stati ignorati tutta la sera e non è che devo venirli a mangiare insieme a te Che cosa vuol dire? Il ristorante non era nemmeno pieno Ci sta, undici mesi fa era giugno Ci sta I clienti del posto ovviamente sono stati serviti molto meglio Ma in base a cosa? Cioè te l'hanno detto te che erano del posto Ma infatti magari chi ci fa una battuta in più perché lo conosci Esatto, sconsigliato ai turisti Ma perché? Ma poi è bellissimo, si mangia benissimo Si trattano bene, sono super gentili Sconsigliati ai turisti comunque Noi non diciamo il nome del posto ma non siamo d'accordo Ma è stoppa che un'altra Grazie a tutti Grazie a tutti